Ciao a tutti, Squalate è a Squalate, io sono Squalo e oggi siamo in un nuovo video per l'arte. Guarda, si può dormire? Sì, oggi si fa un po' di sentito. Ok, oggi faremo un cuore. Oh mio Dio. Non c'è un arco. No, perché non ce l'ho? Vabbè. Devo non guardare. Oh, è un fuoco. Mi arriva tutta la frecciata. Capitano Barbasquolo, è ritornato. Oh, oh mio Dio. Che cosa da mangiare? No, certo. Carne marcia. Oh, va a mangiare. Eh, va bene. Oh, aiuto. Cos'è lo successo? Mi sto negando, aiuto. e imbarcare, imbarchiamo. I, imbarco su su. Oh, è giusto? Mi do. Ora, ciao. Ma come faccio? Vuoi attere quello scheletro? Oh, non posso, sta bene. Devo andare a mangiare. Oh, no. Sì, no. Oh. Io faccio qui l'errore. Non vi ricordate se... Ricordatevi se volete, se giocate, non rimanete mai aperto. No. No. Sì, no. Non rimanere a me. Sento un'immo. Oh, il creeper. Il buongiorno. Pfff. Oh, c'è sbagliato. Vabbè, io sono proprio... Pietrame tanto, Pietrame. Sono ricco di pietre. C'è più di due staglie. Pudu, pudu. Andiamoci a nutrire. Boom, boom. Sono bello. No. Solo un pullo. E... E... È maestro. Hmm. Oh, ho l'idea. Facciamo tutto. Solo qua. Devo ritirci vanno qua. Devo imbarco qua. sentite questo rumore e praticamente il ventilatore non farei più video ma mi scioglierei e si riebbe un nuovo geno scuolo provatelo tutti bimbi gnom e dai nooo 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 potremmo si può mangiare ma te è carina vado a suicidare tutti devo andare in minina e incontro un creeper mi esplode a camoliamo sennò ritrovo più la bimbi vabbè sta lì eh aia nooo sono morto per cavolo Beh tanto, visto che ho la fame e la faccia non accrisci, dovrei farcela morire, infatti non accorre l'esperienza, due bum 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 bum, tanti comunque il fungo non si muove Prendiamo la spada, così, no, perché? Andiamo a farmi, a farmi pure piccoli, uno, due, tre, questa è la botola, ecco un piccolo un piccolo non mi ne voglio fare altri la faccio un altro la sicurezza dai oggi mi sento fortunato dei diamanti tutti bombi sono molto ricco come vedete una pecora una pecorella ok andiamo a scavare iniziamo a scavare qui e va bene vai dimentico le torce comunque ma chi è più cretino di me chi è chi è ne ho imbevinato eh io vai in viniera e in viniera e ragazzi vado a prendere le torce e ritorno ciao creeper di schifo schifo no ragazzi non l'ha nemmeno visto quel maledetto amm come si è permesso bene io ho ricostruito qua e vengo ciao ehm ora vi faccio vedere come ho dovuto fare ragazzi qui è ecco 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 io mi devo contattare di questa una volta soltornamento è sparita e rimandiamo la miniera eeeh che succede tutto questo casino c'è dobbiamo rimandare ma dovete dire proprio non l'ho visto nemmeno eh va bene ragazzi spero per il video vi sia piaciuto mettetevi bellissimo like iscrivetevi al canale e da scuolo e ricacchi e ah ragazzi come si chiamava il mio cane e quel tizio ha sparchi ciao